Teheran Elna Trekabi è ormai diventata un simbolo. La sportiva iraniana che aveva partecipato senza velo ai campionati asiatici di arrampicata in Corea del Sud, è tornata a Teheran, accolta come un'eroina dai sostenitori all'aeroporto. La sua partecipazione alla competizione senza velo con una maglia con i colori dell'Iran, con indosso solo una bandana, era stata interpretata come un gesto di solidarietà alle manifestazioni scatenate un mese fa dalla morte della giovane Masa Amini.